Mi chiamo Barry Allen. Sono l'uomo più veloce del mondo. Che gli è successo? Colpito da un fulmine. Come fa a essere vivo? Che cosa mi sta succedendo? Ha superato i 320 orari. Non è possibile. Nell'esplosione dell'acceleratore non sono stato colpito solo lì, ovvero... Non ne siamo certi. Nel'esplosione dell'acceleratore non sono stato colpito solo lì, ovvero... Di quattro. Nel'esplosione dell'acceleratore non sono stati... Grazie per la visione!